Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Siegfriedo Millequadri. In questo video parleremo di un'opera del pittore americano Eduard Hopper. Andiamo subito a vedere il quadro. Automat è a mio parere uno dei dipinti più intriganti del pittore americano Eduard Hopper. Nel corso del video mi concentrerò soprattutto su due aspetti del quadro che considero cruciali e fondamentali. La protagonista, una donna che è seduta sola ad un tavolino con una tazza in mano, e la grande vetrata che incombe alle sue spalle. Entriamo subito nel vivo del quadro. Il dipinto si intitola Automat, ovvero una sorta di tavola calda molto diffusa nella New York anni 20. Più avanti vi parlerò nel dettaglio degli Automat mostrando anche alcune fotografie d'epoca. Il quadro è un olio su tela che misura 71,4 cm x 91,4 cm ed è conservato al Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa. Il quadro è stato esposto nella seconda mostra personale realizzata da Hopper ad inizio del 1927. Siamo quindi ancora nella prima fase della carriera di Hopper, per quanto l'artista avesse già 45 anni. Hopper fece diversi viaggi studio in Europa, soprattutto in Francia, l'ultimo dei quali nel 1910. Tornato negli Stati Uniti, lavorò a lungo come illustratore. Solo a partire dal 1925, quindi due anni prima la realizzazione di questo quadro, Hopper aveva iniziato a vivere di pittura. La donna si trova all'interno di un Automat, una tavola calda dove gli avventori potevano servirsi direttamente attraverso dei distributori automatici di cibi e di bevande. Gli Automat erano diffusi a New York già dall'inizio del 1900 e le foto dell'epoca confermano la coerenza con l'arredo che vediamo rappresentato nel dipinto. In questa foto d'epoca, che ci mostra all'interno di un Automat, notiamo diverse affinità con il dipinto di Hopper. Osserviamo un tavolino rotondo dove è seduto solitario un avventore che tiene una tazza in mano. Nel locale notiamo anche la porta e poi una grande vetrata. Proprio alla base della vetrata troviamo anche una fruttiera. Questi dettagli che troveremo nel quadro ci danno la conferma che Hopper partiva dalla realtà così come l'osservava tutti i giorni per le strade, nei locali, nei cinema e nei teatri di New York e poi la trasfigurava secondo le esigenze narrative del quadro. La protagonista è dunque sola e seduta ad un tavolino, di fronte a lei una sedia vuota. La donna porta con sé alcuni elementi contraddittori, ambigui. Da una parte ad esempio tiene ancora il cappello a cloche, il cappotto con i polsini ed il collo di pelliccia ed anche un guanto. Questo potrebbe farci pensare che la sua nel locale sia una permanenza fugace, solo il tempo di bere la tazza del caffè o di un tè, non sappiamo. Dall'altra notiamo come sul tavolino vi sia anche un piattino vuoto e questo ci fa pensare che abbia mangiato qualcosa, forse una fetta di torta, e che quindi la permanenza nel locale sia più lunga. La donna inoltre è da una parte coperta dai vestiti, come abbiamo visto, ma anche lascia scoperte delle parti del corpo. Ad esempio vediamo la scollatura e le gambe accavallate sotto al tavolino, un accenno voyeuristico che è presente in diversi dipinti di opera. In questa immagine degli anni venti osserviamo una donna che si trova all'interno di un automat. La protagonista è vestita con eleganza ed è truccata, ma non sappiamo esattamente se sia uscita dal lavoro o se stia aspettando qualcuno. I vestiti che porta ci fanno pensare ad una giornata invernale con poche ore di luce, quindi potrebbe essere sera o notte, ma anche tardo pomeriggio o magari mattina presto. La presenza di un calorifero a terra ci fa pensare che l'ambiente sia riscaldato e quindi che la scelta di restare vestita non sia legata al bisogno di coprirsi, quanto ad uno stato di indecisione sul da farsi. Resto, vado, aspetto, chissà. La donna ha scelto, all'interno del locale, una posizione abbastanza particolare, tra la porta a sinistra, dalla quale peraltro potrebbero arrivare degli spifferi, ed una scala alle sue spalle che sembra portare al piano inferiore. Nel complesso della scena, in questo angolo del locale, domina un senso di vuoto. Appena davanti a lei notiamo una sedia che ci indica che potenzialmente potrebbe esserci qualcuno. Non possiamo nemmeno escludere che il locale sia affollato, ma certamente l'intenzione di Oppere è di isolare totalmente la figura e indagarla sul piano psicologico. La grande vetrata, da questo punto di vista, è molto interessante, perché riflette solo due file di luce artificiali del locale. Non vediamo nulla di quel che succede fuori, non una luce, non un passante, un'automobile, un'altra vetrina dall'altra parte della strada. La grande vetrata non riflette nemmeno la donna. È solo un grande schermo dove, a mio parere, simbolicamente viene proiettato lo stato d'animo della donna. Quella doppia sequenza di luci mi fa pensare agli stessi pensieri della protagonista che esteriormente fissa la tazza di caffè che tiene in mano, ma che interiormente riflette o fantastica su chissà che cosa. Quella doppia fila di luci, riflesse, potrebbe proprio rappresentare un conflitto irrisolto al quale sta pensando, la doppia strada dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Interessante è anche la presenza, alle spalle della protagonista, di un cesto di frutta che dà colore alla scena e che rappresenta, sempre sul piano simbolico, un aspetto positivo di prosperità, fecondità, abbondanza e che nel freddo della giornata new yorkese è posto direttamente in relazione con la donna. Osserviamo infatti che i frutti gialli e rossi richiamano il cappello, il rossetto ed il vestito. Il giallo ed il rosso vengono ripresi anche in altri dettagli del quadro, quali lo zoccolino, le ringhiere, il termosifone e le pareti del locale. Automat è dunque un dipinto dove, partendo dalla realtà quotidiana rappresentata da una tavola calda, Opper mette in scena una situazione molto introspettiva. In questo dipinto, a mio parere, prevale però un senso di irrequietà attesa, di intima riflessione. Opper ci porta all'interno di un locale e, se vogliamo, mette all'angolo la protagonista, isolandola dal resto del mondo, congelando su tela il suo stato d'animo, un frammento della sua vita. I pensieri della donna, la sua trepidazione, la sua indecisione, diventano materia viva e pulsante nel quadro, e in noi, spettatori, naturalmente scatta verso di lei un moto di sincera empatia. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate di questo dipinto di Iduar Opper nei commenti. Vi aspetto al prossimo video.